Del cantiere annunciato dal comune di Pescara per i lavori di manutenzione idraulica della fontana meridiana sul lungomare sud, al momento restano solo le transenne. La richiesta congiunta di FIBA Confesarcenti e Sib Confcommercio di posticipare i lavori ha dato infatti i suoi frutti, portando Palazzo di Città a derogare l'apio del cantiere a tempi migliori, possibilmente all'autunno, per non disturbare la stagione balneare in corso. L'annuncio dei lavori aveva infatti messo in allarme i balneatori dell'area interessata, a ridosso di stabilimenti che avrebbero patito non poco i disagi del cantiere, come ha spiegato al Tg8 Andrea Berardinelli, titolare di uno degli stabilimenti in questione e membro di FIBA Confesarcenti. Come categoria chiediamo di essere consultati, almeno nei periodi di maggiore afflusso turistico e di bagnanti, per le opere che si compiono lungo la riviera, per poterle concordare, almeno avere una calenderizzazione, già che spesso queste opere creano disagio e come in questo caso avere un'aria occlusa in questo periodo appare del tutto antiestetico soprattutto. Noi abbiamo avuto assicurazioni che i lavori non si faranno in questo momento e ringraziamo per questo il comune, però è comunque un momento, come posso dire, non poco piacevole per la riviera qui sud di Pescara. Si prevedevano lavori piuttosto antipatici nella stagione estiva, diciamo così. Il cantiere è situato in un'area molto prossima a un'area giochi, è un'area di ristoro, quindi risultava inopportunio e inadeguato, anche se loro volevano concordare degli orari, ma in questo periodo l'orario di lavoro degli stabilimenti cominciano dal mattino presto, date le alte temperature, fino alla sera tardi, quindi avrebbe creato comunque dei grossi disagi. A questo punto tutto rimandato ad un periodo un po' più propizio? Ringraziamo il comune per questo, lo ripeto, perché comunque ci è venuto incontro. Speriamo che nelle prossime volte almeno di avere un dialogo, ecco, non è che noi abbiamo potere decisionare, però se potessimo dialogare di più per le opere, per tutte le cose che si fanno lungo la riviera, potrebbe essere anche un punto a favore della città, ecco. Resta a questo punto una transenna che è antiestetica però? Mi auguro che trovino un sistema per toglierla, perché in questo momento questa meridiana, che era anche un lustro della città, diventa un, non dico uno proprio, ma qualcosa di non bello a vedere, ecco.